Esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, stretching cervicale. Via! Grazie a tutti. Prossimo esercizio, spinta posteriori delle braccia. Via! 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 Grazie a tutti. Stop. Prossimo esercizio. Twist in piedi. Via! Stop. Prossimo esercizio. Sforbiciate braccia. Via! Stop. Prossimo esercizio. Stretching cervicale. Via! Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Stop. Prossimo esercizio. Squat più sollevamento punte. Via! Stop. Prossimo esercizio. Sumo squat più distensioni sopra la testa. 3, 2, 1, via! Stop. Prossimo esercizio. Squat più slanci posteriori. 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. 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 Grazie a tutti. Stop. Prossimo esercizio. Affondi frontali. 3, 2, 1, via! Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Stop. Prossimo esercizio. Affondo posteriore incrociato per slanci laterali. 3, 2, 1, via! Grazie a tutti. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prossimo esercizio. Semorali in piedi. 3, 2, 1, via! Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Stop. Prossimo esercizio. Stacchi ad una gamba più ginocchiata. 3, 2, 1, via! Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! 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 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Camminata sulle mani più ginocchiata. Via! Prossimo esercizio. Prossimo esercizio. Prossimo esercizio. Prossimo esercizio. Prossimo esercizio. Prossimo esercizio. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 3, 2, 1, via! Grazie a tutti. 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 Prossimo esercizio. Piegamenti tricipiti a terra. 3, 2, 1, via! Piegamenti sulle braccia con rotazione, ginocchia a terra. 3, 2, 1, via! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prossimo esercizio. Slancio, slanci laterali su fianco, slanci laterali su fianco, gamba tesa. 3, 2, 1, via! Cambia lato. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Prossimo esercizio. Stop. Prossimo esercizio. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Prossimo esercizio. Da parte. Incrocio Osercizio. Incrocio gambe supini. Branno. 3, 2, 1, via! 3, 2, via! 3, 2, via! 3, 2, via! 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio, the hundred. Via! Prossimo esercizio, the hundred. 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 5. 5. 4. 3. 2. 1. Stop! Prossimo esercizio. Roll up. 3. 2. 1. Via! 3. 3. 4. 5. 9. 13. 16. 21. 20. 22. 22. 22. 22. 23. 23. 23. 24. 25. 25. 25. Prossimo esercizio. Rolling like a bull. 3, 2, 1, via! Stop! Prossimo esercizio. Sollevamento gambe alternate. Via! For more information, visit www.prossimo.com.eu. Like this and please put space. Save it free. For more information, select video content and click about, send you. Save the manuscripts and click on the video document. Stop! Prossimo esercizio. Allungamento lombare. 3, 2, 1, via! 3, 2, via! 4, 2, via! 5, 2, via! Stop! Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino. 3, 2, 1, via! 3, 2, via! Stop! Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino con apertura delle gambe. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, via! 4, 2, via! Stop! Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino con una gamba appoggiata. 3, 2, 1, via! Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Stop! Prossimo esercizio. Rotazione bacino. 3, 2, 1, via! Stop! 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Allungamento lombare. 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, cambialato nel minor tempo possibile. Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Allungamento lombare. Via! Prossimo esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, via! Stop! Prossimo esercizio. Stretching braccia e pettorali. Via! 5, 4, 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching femorali. Via! Zoomın 6, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10 pourquoi? Grazie a tutti. 5, 4, 3, 2, 1, stop!